Per dare una risposta concreta ad una situazione di forte crisi che ha investito il principale terminalista, l'autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario straordinario Andrea Costinelli, ha adottato con delibera approvata all'unanimità dal Comitato Portuale l'articolo 1 del regolamento dell'Agenzia di somministrazione del lavoro portuale per la qualificazione professionale del porto di Gioia Tauro, al fine di fornire le informazioni necessarie ai lavoratori per procedere all'iscrizione alla suddetta agenzia che oggi sarà registrata in sede notarile. Nel corso della seduta, si legge in una nota ufficiale, l'autorità portuale ha accolto le richieste giunte dai rappresentanti sindacali di stralciare dal regolamento alcune parti meritevoli di maggiore approfondimento nelle sedi ministeriali. Si è giunti a questo importante risultato dopo un intenso lavoro di studio, analisi e di continuo confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nello specifico, l'Agenzia portuale risponde alla necessità di sostenere l'occupazione accompagnata da processi di riconversione industriale in una realtà portuale come quella di Gioia Tauro in cui l'80% della movimentazione container è organizzata in modalità trashipment. L'obiettivo è quello di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza dello scalo che ha visto il maggiore terminalista operare da almeno 5 anni in stato di crisi. In essa confluiranno i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione container che usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme di ammortizzatori sociali. Dal punto di vista giuridico, si afferma ancora nella nota, l'Agenzia costituita dall'autorità portuale di sistema sarà una società pubblica con un unico socio. Su di essa, quindi, l'autorità portuale eserciterà poteri di controllo, ingerenza e condizionamento che si proietteranno sia sugli organi che sugli atti dell'Agenzia portuale e riguarderanno a 360 gradi gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari e gestori. Denominata Gioia Tauro Port Agency avrà sede a Gioia Tauro. Il suo compito sarà quello di supportare la collocazione professionale dei lavoratori iscritti nel proprio elenco anche attraverso la formazione professionale che sarà definita in funzione della realtà economica e degli sviluppi industriali che interessano l'area portuale di Gioia Tauro nei prossimi anni. In base a quanto stabilito dalla legge, ogni lavoratore potrà godere di un'indenità di mancato avviamento al lavoro nel caso in cui, pur essendo disponibile, non sarà chiamato ad effettuare alcuna prestazione lavorativa. Si tratta di un'indenità del valore pari ad un ventisesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria.